Ehi, bella domanda questa, ma per me era già importante salutare il pubblico con l'augurio di rivederci fra cent'anni. Fra cent'anni l'uso della parola ci sarà, resterà. Io credo che molte cose, e non faccio Tiresia che fa le previsioni, io credo che molte cose nel mondo che stiamo vivendo in questo risultato momento, fra cent'anni saranno più che ogni solito. Non so che mondo ci sarà fra cent'anni, ma credo che non avrà poco da dividere col mondo di oggi, col mondo a noi contemporaneo. Quindi Tiresia può salutare i suoi ascoltatori, i suoi amici, dicendo fra cent'anni perché ne avremo cose da raccontare.